Amici di Onda Libere da TV e di altri visuali, con noi ci sono Monia Mattioli e Giancarlo Tardei, entrambi direttori artistici di un festival particolare, un festival internazionale di danza e di teatro contemporaneo, puntato sull'inclusione. Quest'anno è il primo di una serie di festival che si terranno qui a Pergola e si chiama Alter Art Festival. Ciao ragazzi! Ciao Sonia! Grazie per questo invito! Grazie a voi di partecipare a questo incontro. Allora io come ho anticipato il festival si terrà a Pergola e le date sono dall'8 all'11 luglio. Come è nata l'idea di fare un festival e come è nata l'idea di farlo a Pergola? Allora l'idea di fare un festival a Pergola è nato dopo aver ricevuto la comunicazione dell'Agenzia Nazionale Giovani a gennaio per aver vinto un bando della progettazione di Erasmus, quindi un bando europeo, che andrà dal 2021 fino al 2023 e che parla di teatro danza, innovazioni nei linguaggi di teatro danza e inclusione sociale. Quindi non è la prima volta che vinciamo un bando europeo e come abbiamo fatto anche per l'altro bando nel 2018, abbiamo cercato di creare un contenitore che potesse essere il modo per condividere con la comunità tutta il percorso che stavamo facendo e allora collaborammo con Notte Nera Festival, il festival internazionale di linguaggi contemporanei a Sera dei Conti. In questo progetto abbiamo proprio deciso di crearlo noi questo contenitore, quindi quale miglior cosa se organizzare un festival, che alla fine è un modo per presentare delle tematiche anche abbastanza impegnative, però in maniera non ordinaria, quindi più creativa e quindi più accessibile a tutti, a un pubblico di etereogeneo in generale. Il progetto che abbiamo vinto si chiama Dante, quindi sta per danza, teatro, network per giovani ed è appunto dedicato a un target sia di giovani dai 16 anni fino ai 25 anni, ma il festival e poi comunque apre a un target che parte proprio da bambini, quindi dagli 8 anni fino ai 99 anni. Quindi abbiamo proprio voluto dare l'opportunità alla comunità di condividere con noi questo percorso e soprattutto ai giovani, i giovani che abbiamo coinvolto grazie alla collaborazione con quattro istituti superiori della provincia di Pesaro e di Ancona, quali il liceo Mannucci di Fabriano, il liceo Polloni di Fano, l'istituto superiore Panzini di Senigallia e il liceo scientifico di Pergola. In questo senso abbiamo proprio pensato che quello che noi stiamo facendo in realtà sia il percorso di ricerca che appunto è sovvenzionato dalla comunità europea, che il festival che comunque è un percorso di condivisione, di accoglienza della comunità tutta, è in realtà dedicato ai giovani perché saranno loro e poi quelli che dovranno prendersi cura delle loro relazioni e della relazione che hanno col territorio. Quindi ecco questa è stata l'idea e da dove è nato il festival e anche il contesto in cui è nato il festival. Il contesto bellissimo perché comunque per chi non conoscesse Pergola è un borgo molto antico, ma molto molto carino, cioè è da visitare, è da visitare veramente e questo si presta anche al festival che si divide in varie location, mi dicevi, vero? Sì, guarda, noi infatti intanto noi dobbiamo dire che per lavorare sul territorio, in piccoli territori come i nostri dove veramente le strutture sono minime, strutture culturali per realizzare attività culturali sono quasi a zero. Bisogna avere un'amministrazione aperta, pronta, sensibile e disposta e noi l'abbiamo trovata in quella di Pergola, quindi sicuramente quello è stato un sostegno importante. Come dicevi tu, Pergola è un luogo di cultura già perché porta in sé luoghi legati alla cultura, per esempio diceva ieri l'assessore Santelli che veniva chiamata la Pergola Santa perché è tra le più belle della regione Marche, per cui abbiamo pensato di dislocare, di rendere il festival diffuso proprio per creare quel legame tra quello che è l'impronta culturale, architettonica importante con un percorso innovativo legato all'arte, quindi saranno dei laboratori che chiaramente per regioni tecniche si realizzeranno nelle due palestre del plesso scolastico di Pergola e poi tutte le performance, le tavole di discussioni, conferenze, esposizioni dislocate un po' in vari ambiti del centro storico di Pergola. Bello perché uno poi passeggiando può vedere diverse cose, quindi non solo soffermarsi in una, ecco, può vedere tutto di più. Ma voi di ospiti ne avete tanti e molti sono anche internazionali, molti artisti. Sì, allora al di là di quelli del progetto europeo che appunto sono già 10 di docenti e coreografi e artisti che vengono da Francia, Spagna, Inghilterra. Abbiamo poi coinvolto altri artisti, quindi ci abbiamo messo del nostro per aumentare la capacità di internazionalizzazione del festival e abbiamo coinvolto per esempio l'Università di Helsinki di arte con uno dei docenti che in Finlandia tra l'altro fa parte anche di una task force ministeriale che sta proprio portando avanti un progetto di investigazione su come l'arte possa essere un fattore di inclusione e su come abbattere quel gap di comunicazione tra istituzioni e associazioni che hanno fatto dell'inclusione sociale una delle loro priorità. E questo professore si chiama Kylie Conan, poi abbiamo coinvolto altri due coreografi che vengono da Berlino che lavoreranno appunto sull'innovazione legato alla danza contemporanea, un altro docente che viene dal Conservatorio di Parigi, quindi ecco come dicevi tu sono oltre 20 i docenti e portarli tutti in un piccolo paese come Pergola per i ragazzi stessi che tra l'altro faranno un percorso di formazione, proprio di formazione nell'ambito dell'impresa creativa è un'occasione unica perché di solito siamo abituati a dover prendere la macchina e a spostarci a Roma, Bologna e averli tutti qui sicuramente sarà una situazione anomala ma anche molto bella ecco. Beh sicuramente è bella, è da vivere, è da vivere e quindi questi corsi, questi laboratori si terranno mi dicevi la mattina e al pomeriggio e sono circa dieci laboratori in contemporanea. Sì, sono dieci laboratori distribuiti tra le due palestre delle scuole, scuole medie e scuole elementari che sono tra l'altro l'ambiente perfetto perché è dentro un giardino chiuso, recintato, quindi la mattina ci sono i bambini, i teenager che lavorano e quindi anche una situazione di comfort e sicurezza per i genitori, è una sorta di campus estivo e l'altro locale che è al foie del teatro dove lavoreranno i ragazzi più grandi e sono dei laboratori che vanno dalla danza al teatro alle maschere, verrà un mastro mascheraio da Modena e quindi ecco saranno diversi, il programma è molto vasto e quindi insomma è possibile partecipare dai otto anni in su a tutti questi laboratori e poi il programma magari ecco non lo specifico magari possiamo anche, le persone possono anche visitarlo sulla pagina Facebook o Instagram che è proprio Alter Art Festival e ci sarà anche un sito preparato proprio dai ragazzi del Mannucci specifico per avere insomma le indicazioni più dettagliate. E chi volesse partecipare basta, le iscrizioni già sono aperte. La pagina Facebook come dicevo è Instagram, ci sono le indicazioni, c'è il programma completo con il numero da chiamare anche perché i laboratori sono, abbiamo dovuto metterli a numero chiuso proprio per rispettare i protocolli, quindi ecco sarebbe opportuno iscriversi il prima possibile proprio per non stare fuori, mentre invece gli eventi serali che sono gratuiti tra l'altro sono insomma diciamo hanno una possibilità di accoglienza maggiore perché sono all'aperto e anche i laboratori abbiamo dovuto comunque mettere una piccola cifra minima rispetto a quello che magari uno è abituato a vedere perché come dicevo il festival va oltre al sostegno che abbiamo ricevuto dal comune, dalla comunità europea per cui abbiamo dovuto chiedere uno sforzo anche alle famiglie ma veramente minimo perché si parla insomma di veramente quote simile a quelle dei campus estivi che si fanno nei comuni ecco. Penso che è un'occasione così poi di lavorare insieme ad artisti di alto livello come quelli che avete chiamato voi non è da perdere, quindi non ha un prezzo, quello che si mette è fittizio, è un prezzo un po' così, capito? Quindi è quello che lasciano questi laboratori penso che sia maggiore di quanto uno possa pensare poi e trovare qui. Io vedo vivendo nell'entroterra comunque chi vuole deve fare, deve muoversi come dicevate voi, bisogna prendere la macchina e partire. Però avere l'occasione nell'entroterra perché sennò si trovano gli eventi quasi tutti lungo la costa e valorizzare l'entroterra con queste cose secondo me ne vale veramente la pena e vale la pena andare proprio perché non solo perché Pergola è bello ma perché il festival che state organizzando penso che ne valga veramente la pena quindi prendere due piccioni con una fava, vedere Pergola e venire ai vostri laboratori, al vostro festival. Nello staff le persone troveranno oltre 40 ragazzi residenti che seguiranno le varie mansioni come staff organizzativo tra cui anche altri visuali, il gruppo del progetto che è nato da AGFI di Fano. Insieme a Onda Libera TV ci siamo anche noi. Che saranno presenti e lavoreranno spalla a spalla con i ragazzi del Mannucci e quindi vedere un festival diciamo dove i mentori siamo un po' più anzianotti però in realtà sono i ragazzi stessi, i protagonisti, lo staff organizzativo secondo me ecco quello anche per chi viene da fuori al di là che è una cosa sicuramente bellissima trovare dei docenti di questo livello in un piccolo paese che di su è già anche bellissimo però ecco vedere il paese ravvivato e governato da giovani insomma indaffarati nel prendersi cura di quello che è loro secondo me è per noi la soddisfazione più bella e quello per cui tutti gli sforzi diciamo in più che mettiamo e non ripagati anche a livello economico quelli vengono ripagati da questa da questa grande opportunità di vedere i nostri territori vissuti da chi insomma in realtà ecco vive nato qui e vive qui e probabilmente rimarrà qui molti di loro quindi ci fa molto piacere questo. Ci tenevo a dire persone che volessero anche soggiornare a Pergola che magari vengono da lontano ci siamo mossi anche per con le strutture ricettive del luogo con due ristoranti del centro storico di fare dei prezzi convenzionati quindi sulla sui volantini che vedrete del festival ci sono le informazioni ci sono anche i siti internet di queste strutture che hanno aderito all'iniziativa chiamandoli dicendoli che chi viene alloggera qua sarà per il motivo del festival c'è anche una scontistica che generosamente i proprietari hanno voluto condividere con noi perché il periodo è in pieno fase turistica e penso che sia vorremmo dare anche una bella spinta insomma tutta la comunità pergolese dintorno così Pergola può fare un vanto non solo dei bronzi e di queste famose chiese ma anche del festival che come dicevamo siamo alla prima edizione ma ne ce ne saranno tante tante altre invitiamo a partecipare ai laboratori ad iscriversi vi ricordate il numero vogliamo dire dire direttamente posso dire il mio numero che mi occupo di tutta la gestione della segreteria è 339 850 3058 ok trovano tutte le informazioni è www.isciamanca.eu sul sito ci sarà anche la mappa dove sarà dislocato tutto il festival quindi iscrivetevi e venite al festival perché ne vale veramente la pena